Oggi parliamo del 50 mm, una delle ottiche più diffuse e blasonate credo di tutti i tempi e in particolare andremo a sfatare 5 false credenze che riguardano questa lunghezza focale. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi vi racconto la mia versione dell'ottica 50 mm. Andremo a vedere 5 falsi miti su quest'ottica e cercheremo di capire se può essere la scelta migliore per la nostra fotografia oppure no. Prima di cominciare vi rimando a un video che ho già fatto uscire qualche tempo fa che parla proprio del 50 mm in particolare, il 50 mm serie L di casa Canon, quindi uno dei 50 mm più bellini che possiamo trovare in circolazione e anche uno dei più costosi. Andatevelo a recuperare se volete più informazioni su questo 50 mm in particolare. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale così non vi perdete i prossimi aggiornamenti, io rispondo alle vostre domande con dei video contenuti shorts brevi quindi se vi iscrivete non rischiate di perdervi le risposte. Andiamo a incominciare. Cominciamo dalla prima falsa credenza, il 50 mm costa poco. Allora è vero che esistono dei 50 mm economici, però è vero anche che esistono dei 50 mm da 400, 1000, 5000 euro, quindi non è così vero che il 50 mm per definizione costa poco. I 50 mm di fascia bassa costano poco, i 50 mm di fascia alta costano tantissimo, quindi dipende sempre da che cosa vogliamo perché ovviamente un 50 mm di fascia bassa ci dà sì la lunghezza focale del 50 mm ma non la stessa qualità né di costruzione né come resa finale di un'ottica top di gamma. Quindi quando andiamo a comprare un'ottica top di gamma avremo una prestazione migliore, tropicalizzazione, costruzione a prova di bomba, un vero carro armato, vetro migliore, vetro trattato alla fluorite che magari sulla versione economica non abbiamo, innesto in metallo laddove invece quella economica ha la baionetta di plastica, tutta una serie di cose, ricerca e sviluppo per avere una qualità di immagine migliore, un'apertura maggiore, le lamelle magari sono configurate in maniera diversa, gli elementi sono disposti in maniera diversa, insomma abbiamo una lente completamente diversa che giustifica pienamente la differenza di prezzo. Bisogna quindi capire che tipo di 50 mm vogliamo perché se vogliamo il 50 mm top di gamma non è per niente vero che è una lente economica, se ci accontentiamo del 50 mm economico ci portiamo a casa un'ottica che funziona, ci restituisce una lunghezza focale di 50 mm però avrà magari più aberrazione cromatica, avrà magari una nitidezza diversa dalla versione top di gamma, quindi dipende sempre da dove ci vogliamo collocare. Secondo falso mito sul 50 mm, è facile da usare, le foto vengono automaticamente meglio e vengono automaticamente più nitide. Questa è una delle più grandi castronerie che io abbia mai sentito, non è per niente vero che le foto vengono meglio col 50 mm, le foto vengono solamente diverse col 50 mm, sembra che vengano meglio, il dilettante ha l'impressione che gli stiano venendo meglio perché c'è più luce, perché magari venendo da un'ottica kit con apertura 3.5, passare a un 1.8, un 1.4 sembra che ci sia così tanta luce, possiamo abbassare gli iso e allora le foto sembra che vengano meglio. Non è vero niente, le foto non stanno venendo meglio, stanno solo venendo con più luce e con una profondità di campo differente, non è una cosa migliorativa, è solamente una cosa diversa. Non solo ma vi dirò di più, utilizzare un'ottica come un 50 mm, magari un f1.4, utilizzarlo a f1.4, quindi alla massima apertura, è vero, fa entrare più luce e quindi noi possiamo pensare che siccome la foto è più luminosa è automaticamente più bella. Non è vero, non è più bella, è solamente più luminosa e per contro, se stiamo scattando a 1.4 avremo aberrazione cromatica a go-go, avremo sicuramente una buona nitidezza nel centro, ma non è detto che ne abbiamo altrettanta sui bordi, anzi probabilmente no, soprattutto se abbiamo preso quelli economici. Avremo una profondità di campo così risicata che la nitidezza in realtà se ne va a quel paese, perché se io sto scattando a f1.4 la profondità di campo è spessa così, significa che io metto a fuoco l'occhio di una persona, il naso è già fuori fuoco, l'orecchio è già fuori fuoco e quindi l'impressione generale non è di nitidezza maggiore, è di nitidezza inferiore, perché abbiamo una profondità di campo così sottile che quasi niente è a fuoco nella nostra foto, è tutto un po' sfocato, è tutto un po' mosso. Ora, possiamo voler fare gli artisti, magari la buttiamo pure in bianco e nero e diciamo che l'abbiamo fatto apposta, ma funziona per la prima settimana, non possiamo fare così per tutta la vita. Quindi nel momento in cui utilizziamo un 50 mm probabilmente non lo useremo a tutta apertura. Un f1.4 lo usiamo a f2, lo usiamo a f2.8, anche a f3, perché rende meglio. Un 50 mm che originariamente parte da f1.8 utilizzato a f2.8 rende meglio di un'ottica che nativamente parte da f2.8, perché eliminiamo tutte quelle componenti di appunto aberrazione cromatica e altri problemi che possono esserci a tutta apertura. Ricordiamo che lo sweet spot di un'ottica di solito è a metà del suo diaframma, quindi probabilmente a f8 quella lente rende di più. Però è qui la fregatura, è per questo che io dico che non è vero che con il 50 mm le foto vengono migliori. Se lo sweet spot è intorno a f8, è intorno a f8 sia per l'ottica kit, quindi il 18-50, sia per il 50 mm e quelle due lenti, se usate a f8, sono assolutamente identiche. Quindi non cambia assolutamente nulla. Nel momento in cui abbiamo l'impressione che il 50 mm ci stia dando qualcosa di più a tutta apertura, è solo ed esplosivamente luce in più. Non è nitidezza? Assolutamente no. Non è qualità? Assolutamente no. Terzo falso mito su questa bellissima ottica che stiamo andando a demolire, come sapete io non sono tanto amante del 50 mm. Il terzo falso mito è che lo usi sempre. Dicono il 50 mm te lo porti sempre dietro, va bene in tutte le situazioni. Dipende da che punto stiamo osservando la cosa, perché per quanto mi riguarda il 50 mm è un'ottica che non va bene mai. Non funziona mai, non va mai bene. E attenzione, che cosa voglio dire con questo? Che è un'ottica che non funziona e che non dovete prendere? No. Funziona in certi contesti, va bene per fare certe cose, però tenete conto che per quello che faccio io, se io devo fare una scena di interni, se devo fare fotografia di interni, col 50 mm non riesco. Se devo fare un ritratto, e per ritratto io intendo un ritratto in formato verticale, portrait molto close up, col 50 mm non riesco. Non va bene per fare ritratto in quella maniera, il 50 mm. Il 50 mm va bene per fare ritratto da lontano. Quello che state vedendo adesso è un 50 mm. Quindi va bene per fare magari una foto tessera, per prendere le spalle, anche allontanandosi un pochino, per prendere la figura magari a mezzo busto a piano americano, per quello va bene il 50 mm. Per fare un ritratto molto close up non va bene, perché comunque un po' di distorsione ce l'ha, perché comunque dobbiamo avvicinarci e andare proprio in faccia al nostro soggetto, non va bene, non è la scelta ideale. Se dobbiamo fare avifauna non va bene, se dobbiamo fare sport non va bene, se dobbiamo fare foto di concerti o di eventi non va bene. Non va bene praticamente mai il 50 mm. Ogni tanto può andare bene per fare cerimonie o matrimoni, ogni tanto. Dipende dalla chiesa, dipende dal ricevimento, da quanto è grande lo spazio, da quanto ci possiamo avvicinare, ma è comunque un rischio. Per quanto mi riguarda il 50 mm è l'ottica che non va mai bene, perché in qualunque contesto la usi sei sempre in difficoltà. Arriviamo al quarto falso mito, ovvero il 50 mm dicono che sia quello che rappresenta meglio la visione umana. Questa è una cosa che secondo me può funzionare nel momento in cui prendiamo in considerazione la porzione di attenzione del nostro sguardo. Mi spiego meglio. Provate a fare questo gioco con me. Voi adesso siete... non so dove siete, spero che siate seduti comodi, che abbiate le mani libere magari. Fate questo gioco con me. Adesso voi provate a mettere le mani a lato in questa maniera e provate ad avvicinarle al vostro campo visivo. Io vi assicuro che qui io le mie mani le vedo già. Un 50 mm posizionato dove sto io adesso, le mie mani qui non le vede, perché un 50 mm prende questo. Prende solamente questa porzione. Quindi è vero che io sto osservando un riquadro che è la mia area di attenzione che può somigliare a un 50 mm. Però dire che il 50 mm rappresenta la visione umana secondo me è perfettamente errato, perché io qui le mie mani le vedo. Non sono nella mia area di attenzione, io non sono attento alle mie mani, non sto guardando le mie mani, ma le vedo molto chiaramente qui. E quindi il mio ambito di visione somiglia molto di più a un fisheye piuttosto che a un 50 mm. Poi la mia area di attenzione è più ristretta, perché non posso essere attento a tutto il mondo e l'universo che mi circonda. Quindi la mia area di attenzione è più piccola e potrebbe somigliare a un 50 mm. Ma qui c'è anche un altro problema. Quando io osservo una scena, io non ho la profondità di campo di un 50 mm a tutta apertura. Quindi nel momento in cui scatto con un 50 mm a tutta apertura, quella foto è completamente irrealistica, perché io non vedo con una profondità di campo così sottile. Quindi per quanto mi riguarda, questa è una credenza completamente campata per aria, perché non è vero che il 50 mm rappresenta il nostro campo di visione e non è vero che è vicino a come noi percepiamo le cose, perché noi non percepiamo quello sfocato dietro un soggetto. Fateci caso, guardate delle foto con 50 mm, con lo sfondo sfocatissimo, noi non vediamo il mondo così quando stiamo osservando una scena. Quindi per quanto mi riguarda, il 50 mm pur utilizzato bene, perché è bello avere lo sfondo sfocato, però è completamente irrealistico per quanto riguarda la somiglianza con la visione umana. Bene amici, siamo in dirittura d'arrivo. Prima di arrivare all'ultimo falso mito sul 50 mm, voglio darvi un piccolo bonus. Ora, è vero che molti di noi pensano al 50 mm e hanno un'idea platonica, iperuranica del 50 mm, ma è spesso sbagliata e vi spiego perché. Soprattutto se state guardando questo video, soprattutto se vi interessa questo tipo di contenuti, per cui vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale perché ne arriveranno a breve altri, se state guardando i contenuti che io propongo, è probabile che voi non siate dei mega professionisti super impegnati a fare campagne pubblicitarie per Nike e per Coca Cola. Correggetemi se sbaglio, fatemelo sapere in un commento, ma è probabile che se vi interessa questo tipo di contenuto non siate dei super mega fotografi affermati, ma siate degli amatori, dei principianti, degli amatori evoluti, dei professionisti, dei semiprofessionisti, ma non dei professionisti top. Cioè io non credo che Oliviero Toscani si metta a guardare i miei video, non credo che Carl Taylor si metta a guardare i miei video, non credo che Elia Locardi si metta a guardare i miei video. Quindi tolta quella categoria, quella categoria non ha bisogno di sapere da me i falsimiti su un 50 mm. Se vi interessa un contenuto di questo tipo, io presumo di sapere più o meno dove vi collocate nel vostro viaggio fotografico. Ora se la mia stima è esatta, buona parte di voi, io stimo ben sopra il 60-70%, sta utilizzando corpi APS-C. Perché dico questo? Perché si comincia con i corpi APS-C, perché costano di meno. Si comincia con un APS-C o con un micro 4 terzi. Ora nel momento in cui noi parliamo di 50 mm, 50 mm fa riferimento al sensore da 35 mm, cioè il full frame. Se avete una fotocamera full frame state usando un 50 mm. Se non avete una fotocamera full frame, quindi se avete un APS-C o un micro 4 terzi o qualsiasi altra cosa, non è un 50 mm quello che state montando sulla vostra camera, ovvero la lente è un 50 mm, ma 50 fa riferimento ai criteri di costruzione della lente. Il rapporto con il sensore modifica la lunghezza focale e a seconda delle dimensioni del vostro sensore avrete un 80 mm, per esempio. Io quando monto il mio 50 mm f1.4, lo monto sempre su APS-C perché a me il 50 mm non piace, lo monto su APS-C diventa un 80 mm e mi piace molto di più. Quindi io quando uso il 50 mm in realtà sto usando una lunghezza focale equivalente a 80 mm. Lo faccio apposta perché preferisco l'85 e l'80 mm al 50 che invece non mi piace. Ricordatevi che la maggior parte delle volte che state utilizzando un 50 mm non è un 50 mm. State guardando un'altra cosa. Se state usando un corpo APS-C e volete un 50 mm è molto meglio se prendete un 35 mm. 35 effettivo su APS-C diventa più vicino al 50 piuttosto che il 50 vero. Benissimo ma siamo arrivati all'ultimo fondamentale mito sull'ottica 50 mm che è lo usano tutti i grandi fotografi del presente e del passato. Allora intanto secondo me non è assolutamente vero nel senso che i grandi fotografi che poi sono troppi per dire usano tutti i 50 mm non è assolutamente vero. Ci sono grandi fotografi come Elia Locardi che secondo me il 50 mm non lo usa praticamente mai. Lui va molto di grand'angolo perché fa paesaggio. Esistono grandi fotografi come mi viene in mente adesso Lindsay Adler per esempio. È una bravissima fotografa ritrattista. Io so che usa molto l'85. Probabilmente usa anche il 50 ma non usa solo il 50. Usa una grandissima varietà di lenti e usa tantissime lenti zoom. Ho visto di recente che utilizzava il 20-70 f2 di Canon. Quindi non è una fotografa che usa una lente sola. Ne usa tante e di certo non usa solo il 50 mm. Sarebbe riduttivo e limitante. Potrei continuare all'infinito ma è pieno di bravissimi fotografi sia di oggi sia del passato che non usano il 50 mm. Inoltre dobbiamo anche dirci una cosa. È inutile fare delle retrospezioni adattandole con gli occhi dei giorni nostri perché una volta c'era solo il 50 mm. Quindi mettersi oggi a dire eh Cartier Bresson non usava il super zoom. Ma non c'erano. Raga non c'erano. Una volta c'era solo il 50 mm. Quando tu compravi una macchina fotografica veniva di base col 50 mm e un tempo non c'erano le ottiche che ci sono adesso. Non c'era il 100-500 di Canon RF con l'autofocus. Non c'era quella roba lì. Quindi si usava il 50 mm perché la fotografia era in fase di sviluppo. Non era progredita come la conosciamo oggi e non ce n'erano altre di ottiche. Magari a un certo momento si è cominciati ad avere dal 28 al 70 magari. Però i super zoom o i fiscai sono arrivati molto dopo. Sono invenzioni relativamente recenti. Quindi dire eh i grandi del passato usavano il 50. È una bufala. C'era solo quello. Erano costretti a usare il 50. Se ci fosse stata una buona scelta di fiscai e di super tele magari Cartier Bresson li avrebbe usati. Invece aveva il 50 mm che funzionava bene per quello che faceva lui all'epoca. Non possiamo rapportarlo con le meraviglie che abbiamo noi oggi che all'epoca non c'erano. Quindi certe cose di oggi erano impossibili una volta. Quindi il discorso è se una volta non le usavano vuol dire che erano più bravi una volta e facevano tutto senza perché avevano capito cose che noi non capiamo. Secondo me non ha assolutamente senso. Semplicemente non avevano la scelta che abbiamo noi oggi. E io vi dico io sono abbastanza sicuro che se grandi fotografi del passato avessero avuto la scelta di lenti che abbiamo noi oggi le avrebbero usate. Ragazzi le avrebbero usate. Non avrebbero usato solo il 50 mm se avessero avuto la scelta che abbiamo noi oggi. Io di questo sono strassicuro. Magari avrebbero scattato a pellicola lo stesso. Magari avrebbero scattato in manuale lo stesso. Ma potendo scegliere delle lunghezze focali che abbiamo noi oggi che sono tantissime lenti particolarissime che fanno effetti speciali. Per esempio ho visto delle ottiche vintage russe che servono a fare il bokeh circolare, la sfocatura circolare dietro i nostri soggetti. Avendo a disposizione tutte queste cose secondo me uno finisce che le usa. Non si rimane impermeabili e si continuano a usare solo il 50 mm che una volta c'era meno scelta. Benissimo a questo punto vi lascio come sempre spazio nei commenti. Fatemi sapere se siete pro o contro 50 mm. Ripeto io lo uso il 50 mm. Non è che non lo usi. Io ce l'ho e lo uso anche però lo uso su APS-C e quindi mi diventa un 80 e preferisco così. Voi lo usate effettivamente a 50? Siete full frame? Siete APS-C? Che cosa utilizzate? Fatemelo sapere nei commenti e raccontatemi anche il perché della vostra scelta. Vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video.